Le polemiche e la loro sostanza politica restano lì e verranno affrontate dopo le elezioni regionali in sede politica. Adesso però finalmente è il momento di concentrarci sui contenuti della campagna elettorale delle regionali. Per troppo tempo si è accompagnato questo lavoro soltanto con le aspirazioni personali di qualcuno per poter essere candidato. Noi che invece veniamo da un'altra storia, veniamo da una storia lunga, per cui ci si candida per rappresentare un collettivo, delle idee, una visione di società, di territorio. Finalmente viviamo il nostro momento, che è quello di far conoscere le nostre idee. Credo che il primo punto che nessuno ha affrontato in questa campagna elettorale e che dovremmo affrontare è anzitutto qual è il ruolo della Regione. Perché la Regione, da troppi rappresentanti istituzionali, non ultimi anche alcuni del Partito Democratico, nella stessa Regione Campania, hanno oltraggiato le funzioni di consigliere regionale. Noi invece dobbiamo far comprendere ai cittadini, motivarli rispetto all'impegno elettorale, perché questo livello istituzionale serve, in quanto serve ad abbandonare i particolarismi, i localismi, i municipalismi, e provare a dare uno sguardo più largo rispetto alle esigenze del territorio. La Regione può essere sintesi di varie vocazioni produttive, economiche, culturali, civili di tanti territori, che messe insieme possono dare un'altra faccia alla campagna. Perché votare Francesco Todisco? Perché Francesco Todisco rappresenta un collettivo, rappresenta una storia, rappresenta un impegno di un dirigente politico che ha una propria visione di società che cerca di confrontarla in questo mese che manca da qui al momento della verifica elettorale con la propria comunità e vorrà portare all'interno del Consiglio regionale, qualora fosse eletto, come mi auguro, una visione di Irpinia che non sia una visione di un'isola slegata dal contesto regionale, ma di un territorio importante all'interno del contesto campano che cerca di far vivere le proprie vocazioni in armonia con le vocazioni degli altri territori e cerca di ricordare alla Campania che è la prima regione del mezzogiorno e io sono convinto che tanto l'Europa quanto l'Italia, senza un ragionamento di nuovo sviluppo che guardi al mezzogiorno, non vanno mai nessuna parte. Lei ha detto di accantonare le polemiche, però è inevitabile parlare dell'accordo PD. Un accordo che sarebbe sbagliato a non definire frettoloso dell'ultima notte e credo che sia soprattutto in testa a chi ha vissuto una stagione di governo con Caldoro motivare le ragioni per cui quella stagione è stata una stagione sbagliata per la Campania e quindi quali sono le ragioni che accompagnano questo cambiamento. Per quanto ci riguarda, noi siamo convintamente, al sostegno della candidatura di Enzo De Luca, quale candidato eletto dalle primarie del centro-sinistra e del Partito Democratico, perché siamo convinti che il governo Caldoro abbia fatto danni a questa regione e che quindi sia necessario un cambiamento.